Bella Wayu, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction Argentina-Australia con i ragazzi! Ecco, abbiamo anche i gubi perché ti fanno Ronaldo e non Messi, noi siamo tifosi dell'Argentina, noi siamo tifosi dell'Argentina, noi ci vediamo con il match, dai! Guarda che è soffro! Terva, gol! Per su! Fatemi sentirmi a Dani! Ragazzi è finito il primo tempo, una partita molto spetta, ronandolo, la decide Messi, ci sono state pochissime occasioni d'amore, speriamo che la partita si accende un po' nel secondo tempo. Adesso, dai, c'è chi? Adesso, dai, dai, dai! Adesso, la metti in mezzo, parlo le passi! Si vuole, va va! Messi! Bessi, ancora ci prova! No! Attenzione! Messi! Messi! Tira, tira! Siamo attenti, siamo attenti, un tiro l'hanno fatto! Meno male, meno male, guarda là che si è mangiato! Grande copertura di pensiero, mamma mia! Lautaro! Ma che forte Lautaro! Messi! Tira! Lautaro! Mamma mia! Mamma mia che felope! Lo segnerà proprio con il Davoli! Grande Lautaro! Bello! Guarda, questo non mi sbaglia! Lautaro! Bravo! Tre occasioni mangiate, tre! Madre mia! Non vuole mai più l'altro, vuole rimanare un pinto personale! E cattolo! Guarda, che fai messi! Guarda, che fai messi! Guarda, che fai messi! Guarda, di quanto! Guarda, riguarda, guarda, 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 guarda... Guarda, guarda! Ragazzi sono appena tornato a casa, è finita la partita, Argentina vince 2 a 1 contro l'Australia, grandissima vittoria, meno male, quindi siamo ai quarti, mi sa che dobbiamo beccare l'Olanda, quindi se volete la reaction lasciate un bel mi piace. E fatemi sapere se la volete con le penitenze nei commenti, noi ci becchiamo nel prossimo video, bella ragazza.